Professor Panebianco, il principio della doppia lettura era, diciamo così, una conquista del costituzionalismo perché ogni legge veniva esaminata due volte e, almeno in teoria, da parte di due corpi che costituivano realtà diverse rispetto alla rappresentanza. Sappiamo naturalmente che da tempo non è più così, ma il principio, il principio della doppia lettura meriterebbe di essere salvato oppure no, a suo giudizio? Credo che sia un principio completamente superato, tanto è vero che il parlamentarismo contemporaneo si è orientato verso il superamento di questo meccanismo. Il principio era valido in teoria, ma poi in pratica ha prodotto troppi inconvenienti, troppe difficoltà, troppe lentezze nel processo parlamentare e legislativo e quindi credo che senz'altro vada superato. Oggi il governo è il maggior motore della produzione di leggi, persino in termini eccessivi, secondo qualcuno la gran parte delle leggi sono leggi di iniziativa governativa. Però poi siccome di fatto il governo adesso ha anche lui una legittimazione elettorale, si vota per il presidente A, per il presidente B, il passaggio parlamentare rischia di essere semplicemente sempre più una verifica della fiducia nei confronti del governo e della sua maggioranza. Come si può valutare questo nuovo panorama? Ma guardi, credo che questo dipenda essenzialmente dal fatto che abbiamo due grandi filoni con tante differenze interne nel parlamentarismo e nel funzionamento dei sistemi parlamentari. Negli assetti bipolari si produce esattamente quello che lei ha detto, cioè abbiamo una legittimazione anche del governo e un rapporto Parlamento-Governo che non risponde più esattamente all'idea che all'inizio del parlamentarismo ci si era fatto sui rapporti, sui corretti rapporti tra governo e Parlamento e sul modo di produrre le leggi. Credo che non ci sia soluzione. Inevitabilmente se gli assetti sono bipolari o addirittura bipartitici, chi vota per un certo partito vota anche per il governo e a quel punto si determina quel rapporto governo-parlamento che si è detto. Fin quando si rimane all'interno della democrazia parlamentare, allora non c'è soluzione possibile. Altra cosa è naturalmente se si passa a setti presidenziali, semipresidenziali e così via. Il referendum è un istituto che per anni è stato lasciato a dormire, poi è divenuto per qualche decennio il motore della mobilizzazione dei cittadini, poi è entrato di nuovo in un stato di crisi. Come si può spiegare questa vicenda così complessa? Il referendum è stato utilizzato in Italia da un certo momento in poi, in una fase in cui la società andava trasformandosi e nuovi gruppi cercavano nuove forme di espressione politica al di là o a fianco dei partiti. Per una certa fase la società italiana ha reagito positivamente alla novità. Quindi i cittadini hanno accettato con entusiasmo questa nuova forma di espressione politica, poi è subentrata la stanchezza, ora probabilmente l'istituto è in crisi e richiede qualche intervento. In particolare credo che l'intervento che bisognerebbe fare per rivitalizzarlo dovrebbe essere l'abolizione del quorum, cioè un intervento sulla Costituzione che consenta di abolire il quorum necessario per rendere valida la volontà espressa dai cittadini nel referendum. Mi scusi se facciamo un'ultima osservazione finale, ma non c'è il rischio che l'abolizione del quorum del referendum, come lei ricordava, non favorisca in qualche modo una minoranza la quale riuscirebbe per questa via a imporre il suo volere ad una maggioranza relativamente o per niente interessata alla materia che si sottopone al referendum? Sì, naturalmente in teoria questo rischio c'è, in realtà se salta il quorum non c'è più l'interesse alla stensione. Oggi la stensione è di due tipi nei referendum, come abbiamo visto, una è fisiologica, la stensione di chi è disinteressato al problema e questa è ovviamente ineliminabile e oltretutto questo disinteresse è francamente credo anche un diritto del cittadino. Ma poi c'è un altro tipo di astensione, quella organizzata con lo scopo di fare fallire il referendum. Questa seconda forma di astensione salterebbe e a quel punto i gruppi dovrebbero mobilitarsi pro o contro per il sì o per il no. Quindi credo che questo pericolo che c'è sulla carta nella realtà non si manifesterebbe.